Buongiorno, oggi è il primo ottobre, sono le 9.32 e torniamo a parlare dei mercati europei e di quello che ci aspettiamo come movimento dopo la discesa fatta ieri. Come prima cosa mi è piaciuto molto notare che nei TG non si spiegano determinate cose, ovvero perché i mercati siano sui massimi assoluti e perché la benzina stia calando. Con le tensioni in Medio Oriente dovrebbe essere esattamente il contrario, totalmente diverso rispetto allo scenario che stiamo vedendo. I mercati dovrebbero scendere copiosamente e da tempo, oltretutto, poi con l'inascimento della situazione dovrebbe essere ancora peggio come cosa e la benzina dovrebbe essere alle stelle, il prezzo del petrolio dovrebbe essere alle stelle. E invece non sta succedendo. Ecco perché se non conosci questi video che realizzo tutti i giorni, magari può avere senso ragionare di imparare un metodo statistico-matematico non discrezionale come l'analisi evoluta richiedendo la guida gratuita su analisievoluta.it o punto com. Attenzione perché altrimenti non capirai che cosa sta succedendo davvero nel mondo. Questo oggi, parliamo come di consueto di DAX e di MIB, la cosa più divertente è notare che tassi, non tassi, Powell ieri ha segnalato che ci dovrebbero essere solo più due tagli prima della fine dell'anno e non tre come ci si aspettava, cambiano le carte in tavola, vedremo, ci si sarebbe dovuti aspettare che cosa. Teoricamente alti tagli, conferma, sì, no, non lo so. Abbiamo aperto come sul MIB? Abbiamo aperto in rialzo, ma poi la candela è stata completamente rossa, la prima delle nove, e siamo andati teoricamente a creare persino già un vincolo sul settimo ciclo giornaliero. Ci si poteva aspettare una ripartenza da questi minimi per andare in, per ripartire e per ritornare sui massimi assoluti. E invece no, aspettiamo facendo che cosa, peraltro? Facendo una cosa interessante, perché con questo vincolo sul posto tale, quattordicesima barra, quindi siamo teoricamente qui, ma attenzione, ricordiamoci che potremmo ancora essere messi così, 42 barre su massimo 44 che si possono avere per un ciclo giornaliero. In questo modo, con questo movimento forte di discesa, che cosa abbiamo favorito? Abbiamo favorito la chiusura del ciclo inverso, fatto a U, a SMILE, la partenza di un secondo giornaliero inverso, andiamo a pescarci questo, e ce lo portiamo qua, secondo T-3 inverso, e quindi che cosa abbiamo? Se aspetteremo le canoniche almeno 5 barre sotto questo massimo, e siamo già a 3, quindi mancano ancora 31 minuti, ok? Tra oltre una mezz'ora, se torneremo qui sopra, potremmo valutare ingressi long. Molto semplice. Per questo motivo mettiamo qua un'allerta, un'allarme, e segnaliamo allora 34, 248 e 62, 248 e 62, vincolo rialzista, ok? Qui abbiamo un vincolo rialzista, se appunto andremo tra le 6 e le 22 barre a partire da questo massimo, e siamo già a 3, appunto sopra questo massimo. Abbiamo già programmato per questa giornata l'operazione, sappiamo già che cosa fare, abbiamo già un allarme sonoro, per cui possiamo andare a fare tutt'altro, vedendo se abbiamo un ciclo settimanale, un settimo ciclo giornaliero vincolato a ribasso, se abbiamo soltanto invece un sesto T-3, con una forma strana, che ha chiuso e adesso favorirà un rimbalzo, e soprattutto andando a rivedere bene il calendario economico, perché è zeppo di notizie oggi e di dati purtroppo. Tra 17 minuti avremo infatti l'indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero tedesco, successivamente alle 11 l'IPC europeo, poi boccata d'aria fino alle 4 meno un quarto, quando ci sarà l'indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero, degli Stati Uniti. A seguire l'ISM e i JOLTS, quindi abbiamo una finestra di tranquillità per operare tra le 11 e un quarto, e le 4 meno, e le 3, 3 e mezza. Abbiamo questa finestra per essere tranquilli, oppure per settare un'operazione di medio periodo, perché a questo punto è importante ragionare di tecnica 4, tecnica operativa di 3 in 4, la quarta tecnica rispetto all'unica tecnica che si aveva con la vecchia analisi ciclica, perché noi parliamo di analisi ciclica evoluta, e quindi è importantissimo già sapere che cosa fare mettendo allarmi, trovando target, e sappiamo già qual è il target, se hai guardato i video del weekend, il target per il rimbalzo, dopo la chiusura del ciclo settimanale, quindi vorrà essere settimo t-3 vincolato o ribasso, va benissimo, andremo a scendere, a fare un minimo, come minimo, dalla 23esima, 24esima barra in avanti, quindi come minimo dalle 11 e un quarto, 11 e mezza in avanti, e poi a quel punto, passati i dati anche, se avremmo trovato un minimo, valuteremo, già, se potremmo andare long, anche prima della violazione di questo massimo, questo per quanto riguarda l'indice italiano, il MIB, per quanto riguarda l'indice tedesco, abbiamo avuto anche qui, un'apertura interessante in lap up, poi ce la siamo rimangiata, siamo scesi, anche in questo caso, stiamo aspettando di vedere, se hanno voglia di chiudere ancora, il ciclo settimanale, iniziato qui, bisettimanale, abbiamo la condizione per chiudere un ciclo bisettimanale, in questo momento, se guardiamo l'analisi ciclica, no, abbiamo soltanto, un ciclo giornaliero, ribassista, non ne abbiamo due, se invece andiamo ad utilizzare, l'analisi evoluta, quante candele sono sopra questo minimo? Parecchie, 48, 47, direi che siamo abbastanza al buono, come cosa, facciamo solo attenzione, a vedere prima, appunto, se ci sarà una discesa, rispetto alla salita, esattamente come detto per il MIB, qui di nuovo, divertente, dato che su DAX, fanno delle cose differenti, qui è estremamente sospetto, lo ripeto, estremamente sospetto, il fatto, che abbiano fatto questo top, e poi, ti allargo il video, perché è giusto vederlo, e poi tutta questa lateralità, questo massimo, è stato fatto, a 19.365, 21, 1, 2, 3, 65, no, 4, 5, e qua viene superato, quante barre abbiamo avuto? 1, 2, 3, 4, 5 barre sotto un massimo, non c'è lo swing d'inverso, quindi va verificato, ma da qui potrebbe essere iniziato il secondo ciclo giornaliero inverso, già vincolato a continuare a farci salire, abbiamo avuto apertura in salita, poi, forse finta di discesa, poi di nuovo salita, vediamo se questo piccolo accorgimento ci permetterà appunto di capire se siamo già vincolati a ritornare in ogni caso sui massimi, come che cosa? Che cosa ci dicevamo sul grafico giornaliero nel weekend? Andiamo a prenderci il grafico giornaliero. Ci dicevamo determinate cose, perché? Perché siamo su un mensile inverso, che si è vincolato, se non faranno raccordi inversi e altre cose, a salire fino come minimo alla ventiquattresima barra, e noi siamo soltanto a 21 iniziata oggi. Come minimo, in media, potremmo cercare un top per 32 giorni, e noi siamo già a 21, al massimo 43, per cui, ecco, attenzione a questo puntino. Occhio anche perché oggi ci sarà la decima puntata dal vivo con Swissquote, sul canale Swissquote in italiano di Money Moves, parleremo di nuovo di mercati americani, parleremo di bitcoin con l'accentratura giornaliera, per cui, se non vuoi perderti il video dal vivo alle ore 18 di questo pomeriggio, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Ok? Questo è tutto, ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro una splendida giornata. La mia lo sarà sicuramente, perché voglio influenzare in positivo tutte le persone che mi stanno attorno. a tutti i nostri amici.